È sempre molto importante essere in luoghi significativi, come sicuramente è un luogo del bolletariato, dell'attenzione di tutti al mondo dei più deboli, dei fragili, della società che ha bisogno di aiuto e questo non può che essere Cascina-Teguzza. Qui a Cascina-Teguzza c'è una capacità di mettere insieme intelligenze, forse soggetti della società civile che si impegnano per il bene comune, che rappresenta ovviamente gli interessi che anche io ho per questo luogo, dove sono qui quest'oggi come rappresentante del Milan Center, è una delle eredità immateriali di Expo 2015, anzi l'eredità fondamentale una volta che noi la immaginiamo come quella per la quale si lavora a costruire un sistema di regolazione universale sul diritto al cibo e al cibo garantito.